buongiorno coccodrilli ci siamo ci siamo oggi è il compleanno di nonno faustino sei contento? certo che vede? che vede? niente che vede? sorpresa auguri eccolo tutto pronto eccolo o no? auguri ue 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 son 93 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 l'ultimo perché tra fa fa organizzare tutto quanto sempre con l'acqua alla gola pronti eccolo pronti grande Roby ecco Roberto alla guida un applauso a Roberto e Gloria hai festeggiato e prima Paustino tu pazia? eh lei deve mandare le mail le mail le due la mannata sta pieno papapapapapapa papapa papapa papappapa no no Paustino vieni qui con me tatatatatatatat che è il pelo nero no? oh ma sia contento Andiamo a pelo Perché sta pieno Curre, curre Che lì Te c'è cotto un uovo Regalo per te Che è? Il campanello E come fa il campanello? Come? Come? Regalo, come è? No, per bene La si vede E' un sacco di tempo Allee Tazio Auguri nonno Faustino Nonna Mari Sei contenta? Molto Guarda che perlage Che corallo E? Vedi che ti rompo Questi lì Sono coralli Sono coralli papali Eh? Questi sono coralli Ma è vero che sei dimesso? Ma via All'ospedale Ma via All'ospedale C'è stato Lui è buono Ma è l'ultimo Il signore che vuol bene E poi? E poi è bravo E dopo? E dopo va via Va via Dopo era troppo Della paura Mi diceva Mi ha fatto un mucchetto Sotto una pianta Di spesso ci vengo domani a piano Ma 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 Eccolo Che è quello? Che è questo? Non toccare Ma Il segreto Per arrivare a 93 anni E' questo I cazzi degli altri I cazzi dell'antri Belluno in Roma C'è anche lì Ciao ragazzi Numero uno Videomaker Numero uno Al mondo Ecco Grande Sì sì Fate qualche ripesa Come no Ho iniziato Poi ne faremo tantissimi Vai 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 Siamo carichi E Va che Mi dice mai basta Quello su No è più il suo Ma Già sta a beve Bornier Già cominci Ma quell'anello Com'è Questo l'anello Questo l'anello è micigiale Non mi scherzo a che tu il tizio Eh Vati è la stella Saluto Oh no Eh Grande Roby Sarebbe Saluto Alle prese Con il salmone Salmonato Risalmonato Contriplo Salmonatura La doppia Salmonatura Incredibile Sta partendo Tecimo Minuto Quindicesimo Ventesimo Arriva Sta mangiando Sta mangiando Incredibile Ancora lui Eccolo Sta per pronto Eccola 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 arzugata salmonata con tripla di salmonata hai potuto farvi vedere tutto il piatto è ma sono talmente buoni che io me li so mangiati tutti come erano Filipe quando il coccodrillo si sta mangiando il piatto no la stella numero uno che c'è chi è questo è il D ma vai vicino vai vicino vai vicino vai vicino io non lo so per l'annetto però quando lo facciamo prima com'è com'è il mister saluta mister nonna com'è la donna invece la donna basta si pari che bel regalo che ho fatto nonno 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 vai 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 ma come no se fate swipe potete trovare le maglie e anche i cappellini ragazzi andate da un occhio fate swipe e andate a vedere cosa c'è di nuovo nel mio store anomalo a tavola sono arrivati i paccheri ragazzi questi sono i paccheri della stella i numeri 1 guardate tutti i zitti come sono questi paccheri? buonissimi sono 93 sono 93 sono 93 che giornata guardatelo ignaro di tutti 120 la vita mia ho il cuore e questo cuore sii stato un primo amore un primo e l'ultimo sarai per me una pennavera vai 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 come una pantera dai a te dai a te con filiberti dai 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 vai vai filiberti vai vai filiberti vai vai filiberti vai spotilla Com'è? Il mister falletto Il mister falletto Il mister falletto Mi hanno fatto il gavettone, ecco Sono tutto bagnato Che cosa hanno detto il gavettone? Dormiamo Mi hanno tornato a Bastia, che dici tu? Che siamo arrivati in Italia Sempre contento Ciao Robè Robè Ciao Grandissimo driver Sulla testa Ciao Andrea Ci vediamo un romano Giovedì stai a pranzo da me Ci avremo un ospite speciale No Dani Va bene? Siamo tornati Come sei stato? Bene Fai una faccia da bene? Meglio 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 Sì Ma vuoi già fai un culo? No Dai un bacetto Dai Siamo stati benissimo Vero? Sì Guarda di qui Oh fermate Sei stato contento con gli amici Tutto quanto? Quanto? Tanto quanto? Fai una faccia da tanto quanto Fai una faccia da coglione Beh mi fa male È stata Io non me l'aspettavo tutto questo Non ti addormenta Pensavo una festa di cucciola così Invece tutto questo non me l'aspettavo Sono stato molto bene Una cosa grandiosa è stata Bel compleanno Ebbè Quanto bello È bello Bello Un bel po' E un bacetto Quadrilli è stata una giornata fantastica Volevo ringraziarvi tutti con questa storia per i tantissimi auguri Rimano un abbraccio gigante Anche il nonno è super felice E niente Grazie infinita Avete dimostrato come sempre Un calore E un affetto fantastico Domani sarà un'altra bella giornata Domani sarà un'altra bella giornata Giovedì ci sarà una sorpresa perché Inizia un po' Il progetto della macchina Quindi giovedì avremo Un ospite a casa Per me è un ospite speciale E per me è un ospite speciale Super speciale Se sbirciate nelle storie Qualcuno già ha capito chi Perché era presente anche negli auguri di nonno Adesso pubblico altre vostre storie degli auguri E niente E ci vediamo domani Un abbraccio Ah E il video della giornata sarà su YouTube Perché avevamo un videomaker Elia che saluta Grazie